I delegati della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo alla scoperta delle realtà agricole pugliesi, ospiti dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, gli europarlamentari hanno toccato con mano la cultura agricola mediterranea e la grande attenzione dei ricercatori. In un momento in cui ci si avvia il voto della PAC per la quale gli stessi eurodeputati hanno lavorato ben due anni attraverso triloghi negoziati, l'OIAM assume un ruolo di cerniera nelle trattative tra Parlamento Europeo e Consiglio dei Ministri. La conoscenza e la ricerca messa in campo dall'OIAM ha consentito di costruire un percorso condiviso anche da tutti quei paesi che hanno un'agricoltura mediterranea. Il nostro ruolo naturalmente è quello di spingerci oltre perché, l'ho detto, la nostra organizzazione è un'organizzazione euro-mediterranea e quindi visto che viviamo in un'area magnifica, ricca di biodiversità, dobbiamo rafforzare questo ruolo. Da una parte cercare adesso di utilizzare al meglio quello che è l'ultimo appuntamento della programmazione europea ci mette a disposizione. Tutti questi soldi che arriveranno da noi, rendere gli agricoltori edotti, rafforzarli anche in un sistema di formazione, educazione e conoscenza meglio degli strumenti che da gennaio partiranno. Dall'altro canto anche di definire una piattaforma di scambi con l'altra parte del Mediterraneo, perché non ci può essere concorrenza tra produzioni mediterranee, perché viviamo nello stesso ambiente, ovviamente abbiamo le stesse culture e abbiamo la stessa cultura. La ricerca è dunque uno strumento al servizio dello sviluppo. Lo IAMB e la Regione Puglia hanno creato da tempo un tavolo di concertazione sul quale hanno messo a confronto le esigenze dell'agricoltura con la ricerca. È un momento importante perché possiamo in qualche maniera tutelare oltre al sistema italiano ma anche il sistema pugliese che in questo momento, lasciatemi passare questa considerazione, il brand Puglia dell'agricoltore è molto ben visto e quindi siamo come punto di riferimento. Quindi è importante adesso che i nostri agricoltori naturalmente ci seguano tutto ciò che mettiamo a disposizione e siamo qui per completare le attività e quindi cominciare anche questa nuova programmazione che sono convinto porterà ancora più successo al sistema agricolo. La PAC sarà così uno strumento importante, flessibile, in grado di dare aiuto e sostegno agli agricoltori professionali e giovani per un'agricoltura mediterranea e meno burocratica. Gli Stati membri dovranno definire con norma nazionale qual è l'agricoltore professionale, come verrà individuato. Gli Stati membri dovranno decidere quali saranno i settori da aiutare con gli aiuti accoppiati. Gli Stati membri dovranno decidere come distribuire gli aiuti all'interno del territorio nazionale, in che aree omogenee, come costruire queste aree omogenee. Quindi è importantissimo il ruolo degli assessori che insieme con il Ministero costruiranno le modalità di applicazione.